Non sono solo in Indonesia, ma anche in Siria, Pakistan, Iraq. L'ultimo rapporto sulla cristianofobia nel mondo ha contato 33 paesi tra i 50 dove il cristianesimo è più perseguitato. In Pakistan l'aggressione quotidiana è di Stato. Il paese di Asia-Bibisi conferma dei luoghi più pericolosi per i cristiani. Le vittime predilette sono le donne, tra rapimenti, stupri e matrimoni forzati. Due mesi fa, l'ultimo caso, una minorenne disabile è stata rapita vicino a Lahore. Da quanto raccontano i genitori, si teme uno sfruttamento sessuale dopo che è finita tra le mani di tre musulmani del posto. In Armenia le chiese sono prese d'assalto adesso che il paese è sotto il controllo a zero. Il che ha significato una brusca impennata per le profanazioni e le persecuzioni. E di due settimane fa il video del soldato trionfante è una cappella, mentre il grido di Allah Akbar spezza la croce. L'8 ottobre le forze azzere hanno bombardato il distrutto del Santo Salvatore, l'iconica cattedrale armena. E sarebbe troppo riportare gli ultimi episodi Mali, Iran, Somalia ed Egitto, dove anche i bambini sono vittime perché figli di convertiti al cattolicesimo o al cristianesimo perché indossano simboli religiosi. L'Occidente e il resto del mondo sono vittime di un'orda più o meno politicizzata, più o meno violenta, più o meno frustrata che mette in scena spettacoli degni del più inquietante film dell'orrore. Era il 2010 quando Benedetto XVI denunciò il feroce secolarismo che imperversava per l'Europa e profetizzò una persecuzione che sarebbe solo peggiorata. 10 anni dopo la classe politica chiude un occhio, seguendo il motto infantile di se non vedo il pericolo, allora il pericolo non esiste e non vede neanche me, quando non è il governo stesso a perseguitare. Il fatto che la nostra vita quotidiana sia sempre più determinata da attentati estremisti di ogni genere sembra non essere un problema. L'estensione è molto maggiore di quanto si immagini o si tema. Nel mondo c'è una guerra, in tutto il mondo, ma nessuno spaventa, pochissimi la raccontano, ancor meno hanno intenzione di difendere quello e quelli che stanno attaccando. Oggi c'è Radio Roma Libera.org, la prima emittente di Podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org